ma questo appello dei 30 mila credetemi è un momento estremamente importante indietro non si può tornare da un qualche cosa che ha avuto questo tipo di solidarietà quindi come dico sempre c'è in Turchia oggi un forte movimento e poi la terza cosa, dirò anche questa, è la ricerca delle radici moltissimi giovani turchi si stanno rendendo conto che tra i loro antenati una nonna, un nonno, più spesso donne, probabilmente era armeno o siriaco e cominciano a cercarli, fino ad adesso avere un antenato armeno era considerato una macchia sulla propria identità tant'è vero che chi aveva un antenato armeno non poteva fare il servizio militare cioè scusate, faceva il servizio militare ma solo come soldato semplice non poteva restare nell'esercito adesso questi ragazzi, questi giovani cominciano a cercare gli interessa sapere perché il popolo armeno e il popolo turco sono inesplicabilmente legati da secoli e secoli di convivenza capite? Questa specie di colpo di spada che ha eliminato una parte del paese in realtà è stato un impoverimento collettivo i due volumi di Antonio Aslan già nel primo non si era visto in maniera molto esplicita hanno questa caratteristica, questa pubblicità che però è forse una delle loro forze forse più eclatanti che hanno più piani narrativi, potrebbero anche sembrare complessi ma poi sono di una leggibilità e di un'intensità veramente notevoli nel primo i piani narrativi erano praticamente tre per chi l'ha letto può ricordarselo bene un io narrante che poi Antonio Aslan stessa la nipote, l'ultima discendente, le ultime discendenti di questa famiglia e poi due piani narrativi che occupano il cuore del libro che sono le storie dei due fratelli uno dei fratelli è venuto in Italia è diventato un famoso chirurgo e l'altro invece è rimasto nella piccola città in Arbella progettano praticamente di reincontrarsi il fratello, il grande medico sarebbe tornato in Armenia quindi se in parte il fratello è rimasto in Armenia prepara la casa vedo che molti lo conoscono prepara la casa, prepara una grande accoglienza purtroppo ha inizio il genocidio il genocidio che comporterà l'uccisione di tutti i maschi e la deportazione di tutte le femmine della famiglia con la scena che poi molti avranno presenti anche attraverso il film della testa di Sampad mozzata e gettata in greco alla moglie la strada di Smirne che inizia praticamente con l'imbarco dei quattro figli delle tre figlie del figlio di Barba travestito da donna su una nave per andare a Venezia a raggiungere lo zio dicevo nella strada di Smirne questi piani narrativi si complicano ulteriormente c'è l'io narrante, c'è la bambina Antonia Slam che racconta la storia ogni tanto fuoriesce in maniera esplicita commentando la storia stessa c'è la storia dei bambini che arrivano a Venezia del loro acclimatamento in Italia, una cultura in un mondo totalmente diverso c'è la storia di Ismene e di Sacco prima ad Aleppo e poi a Smirne che continuano il loro compito di assistenza benevola al popolo almeno facendosi carico di alcuni bambini dell'orfanatrofio locale e c'è un'ulteriore storia quella di Nazim che abbiamo accennato con l'incendio della chiesa che tenta di ritornare nella piccola città dopo l'uscita del secondo libro si può presumere che ci sarà una trilogia chiediamo a Antonia Slam come si comporranno nell'ultima parte di questa storia tutti questi vari piani narrativi e questo non lo so, non lo posso sapere ancora però certamente siccome è la storia della bambina, cioè la mia storia è chiaro che anche tutto questo verrà visto da un periodo più recente e con un taglio diverso io credo che ci sarà qualche punto che va verso l'oriente però non so ancora dove e come perché i miei zii, i miei cugini sono pure rimasti lì quando avevo vent'anni, ventidue, ho fatto un famoso per me naturalmente viaggio in Medio Oriente in cui ho visto, ho capito la vita ad Aleppo, a Damasco, a Beirut parenti che erano in ospitalità straordinaria ho capito, ho visto le persone, è stata una cosa che mi ha molto nutrito all'epoca ecco questo salterà poi di sicuro di nuovo e poi naturalmente quando cominci a scrivere quando cominci a scrivere man mano anche si io mi faccio sempre tanti piccoli appunti e la prima cosa che mi viene in mente di solito sono i nomi perché ritego che i personaggi devono avere dei nomi giusti ecco, se il nome è giusto il personaggio si costruisce anche meglio intorno nasce qualche cosa anche dal nome e così, per esempio, credo di aver già scritto il prologo del terzo libro perché ho scritto un racconto che ho pubblicato sul Corriere che tutto sommato mi è parso che fosse proprio però il prologo è sempre qualche cosa nel mio libro che è a parte è scritto prima, viene aggiunto dopo la storia in sé è quella che era fuori non lo so, mi piani è una bella domanda non ci farai pensare, non ci farai pensare